Allora mister, Fabio Mandato chiede, partita vinta con le transizioni offensive, movimenti perfetti tra i terzini e i centrali di centrocampo, può essere una chiave della vittoria questa? La chiave, vabbè, su queste situazioni ci stiamo lavorando da tempo, quindi la squadra sa qualsiasi modulo che va a incontrare, le contrapposizioni e quindi su questo lavoro che stanno facendo, mi stanno seguendo i ragazzi, mi aiuta molto lo staff, mi aiutano i ragazzi nel cercare di trovare in quei due giorni di lavoro la quadratura giusta, insomma, e poi comunque il segreto secondo me, io lo dico sempre, è la testa di questi ragazzi, il cuore di questi ragazzi, quello che stanno mettendo in campo dalla prima, da quando siamo tornati, quindi quello è il segreto, insomma. Pippo Gatto dice, vittoria eroica, la differenza la fanno i quinti anche per lui, finché hanno benzina e questa è la chiave per questa partita, complimenti, ora otto giorni di riposo e poi una grande battaglia col Prisa. Ma per me la differenza la fa il gruppo, lo dico sempre perché questi ragazzi, chi gioca gioca, l'avete notato nelle altre gare, mi dite il turnover, non è questione di turnover, chi gioca, gioca, sa cosa deve fare, sa cosa deve mettere in campo, questi ragazzi tutti, dal primo all'ultimo, lo stanno dimostrando, dimostra che chi entra dentro per un minuto, dieci minuti, ti fa sputa il sangue fino alla fine, quindi questo è il segreto. Piero Giorgio Giorno chiede, non bisogna mai dare per morto un branco di lui, prima di averlo uccisi definitivamente, questa è una vittoria fondamentale per continuare a crederci fino alla fine. Ma lo possono dare morti in tanti, quindi a me questa è una cosa che non interessa, so io cosa ho dentro, so io cosa hanno dentro i ragazzi e quindi fin quando riesco a tenere acceso questo fuoco, e vi dico che di fuoco ce n'è tanto, siamo pronti a queste altre tre battaglie. Francesco Oliverio invece dice, oltre alla prova di maturità, questa è sicuramente una vittoria che mantiene viva la speranza. L'abbiamo sempre detto, noi guardiamo partita dopo partita, guardiamo in ciò che facciamo per fare i conti alla fine, noi dobbiamo fare i conti alla fine. Questa squadra sta facendo un percorso troppo importante in queste gare, la classifica di queste sette gare la dice lunga, la dice perché ho un gruppo che crede in ciò che fanno, lavorano in un modo fantastico e quindi poi i risultati in campo si vedono, sappiamo soffrire insieme, questo è importante. Poi ricordano che dopo la prima partita lei aveva detto che il Cosenza iniziava a scalare la montagna, quanto le dispiace però che l'ha riuscito meno di questa scalata non dipenda solo dal nostro rendimento che comunque con 13 punti in 7 partite da quando lei è alla guida sarebbe quasi nel playoff. Facciamo i conti alla fine, questo dico soltanto pure perché abbiamo una gara troppo importante in Pisa, un'altra squadra fortissima e dobbiamo prepararla bene con la testa, con i mezzi che abbiamo a livello tecnico, a livello tattico e soprattutto con tanto cuore. Francesco Laluna invece chiede, Balulì si è rivelato una pedina fondamentale nell'economia della gara da quando è entrato, si aspettava questa qualità da questo ragazzo in quel momento della partita. Ma io li alleno, non sono una sorpresa a me la domenica, il giorno della gara per me questi ragazzi non sono una sorpresa, quando vedi attaccanti che rincorrono dal primo all'ultimo minuto i giocatori avversari hai già vinto, quindi fondamentale è questo, io ho la fortuna di allenare questi ragazzi che hanno davvero tanto fuoco dentro e davvero mi mettono in una difficoltà enorme quando devo fare le scelte, che quando vai a scegliere sui ragazzi che durante la settimana danno l'anima, meritano tutti di essere in campo, non è facile. Franco Segreto fa i complimenti per la vittoria meritata, nonostante i vari cambi di modulo del Pordenone, la nostra squadra è sempre rimasta corta e quadrata, ora altre tre finali per agganciare almeno i play-out. Ma ripeto, per quanto riguarda i cambi dei moduli eccetera eccetera, oltre che conosci le squadre quando cambiano interpreti sai più o meno come possono mettersi in campo. Ovviamente noi sappiamo nel nostro modulo come dobbiamo contropporci ad ogni modulo, quindi poi ho la fortuna di avere in campo giocatori importanti, giocatori che tanti sono allenatori in campo e mi danno anche una mano, ho la fortuna di avere uno staff importante e mi danno una grossa mano, quindi questo già per me è tanto.